Buonasera Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole. La gola di sospiri per l'amore, e il cuor farà tremila caprioli. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Dario è stato un grande autore di canzoni, moltissime sono sconosciute perché lui le canzoni le ha sempre utilizzate come la musica nei suoi spettacoli. Tant'è vero che ne ha depositate un 150-160 ma ne ha scritte molte e molte di più perché compaiono nei copioni. E poi perché lui ha sempre sperimentato con la musica, ha sempre sperimentato strade nuove, scrivere le canzoni. Allora, sto parlando degli anni 50, in parte come fossero dei musical. Dove e quando hai incontrato Dario Fo? Qui. Io ho fatto qui il mio primo provino. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, li hanno sparato, dal tram che va all'ortica, era in salita. Ma pedalava in fretta, poi l'ha ambeccato, li andava con fatica, l'hanno beccato. Preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata, poi è crollato. Come fa il vitello? Quando gli danno l'ultima ammazzata. Comunque adesso il provino poi magari lo raccontiamo anche dopo, ma fondamentalmente il provino l'ho fatto esattamente in questa posizione. Però senza il microfono, perché dovevo farmi sentire là in fondo. E in fondo c'è la Franca Lame, Franca Lame che diceva come ti chiami Gian Gilberto, io andavo a dire Gian Gilberto, Gian Gilberto, Gian Gilberto. Questa che cantiamo adesso è la canzone, sigla della trasmissione che cantava Lora Mina. E nel 1962 c'erano 13 milioni di telespettatori e la televisione era in bianco e nero. E Dario Fo e Franca Lame abbandonarono quell'edizione di Canzonissima e fu uno grandissimo scandalo, perché volevano fare uno sketch sulle morti bianche, un incidente sul lavoro in un cantiere e di queste cose in televisione al sabato sera non si poteva parlare. Stringimi forte i polsi dentro le mani tue C'è una canzone che lui stava scrivendo ormai da tempo. Aveva iniziato a scriverla quando nel 1952 era in scena con il dito nell'occhio e il primo pezzettino di questa canzone non l'ha scritta Fiorenzo Carpi ma Vittorio Paltrinieri che era un pianista e un cantante swing di allora. Lo sanno tutti che sei su Collino il barbiere perché c'ha un mucchio di soldi e io sono qui sul marciapiede che cammino avanti e indietro eccetera. Che preparazione musicale aveva Fo? No, lui aveva un orecchio assoluto e poi aveva questa grande capacità dell'ostacco queste cose che faceva solo lui. La forza dell'amore eh eh 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 Tocco gli osses il tec del dom incontro a luce te parene tu non un uomo incinto de quatermes con la sutana de sto fai in gris eh se volete capire davvero perché Dario Fo ha vinto il premio Nobel c'è una canzone che è quella che vive la serata di oggi grazie a Oliviero Ponte di Pino grazie a Oliviero Ponte di Pino il fatto è che noi vilan che noi vilan è sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventan tristi se noi piangere è sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re fa male al ricco e al cardinale diventan tristi se noi piangere Celeste Castelnuovo grazie Fabrizio Bernasconi Pianoforte Tony Arco Batteria Marco Mistrangelo Contrabbasso Sergio Farina Chitarra Paolo Tomelleri Clarinetto grazie alla Palazzina Liberty grazie a Dario Fo e Franca Rame grazie all'assessorato della cultura al teatro del Buratto Oliviero Ponte di Pino grazie a tutti grazie ai tecnici e ai fonici che ci hanno aiutato grazie a voi non dimenticate non dimenticate